Ottica Bettanini In caso di influenza o raffreddore, rimuovi le lenti a contatto per evitare contaminazioni dal cavo orale all'occhio tramite i canalini lacrimali. L'occhiale che ti propongono a basso prezzo, tutto incluso, quasi sempre non è un affare. È l'esperienza dell'ottico che fa la differenza, non il prezzo. Ottica Bettanini, a Napoli, dal 1856. Via Toledo 146, Napoli